Dino E là Sto dicendo a te, eh? No, grazie Buonissima Rispondigli almeno, cerca di essere gentile Ti fa ridere, cazzone Rispondigli almeno, cerca di essere gentile Allora, amico, racconta. Che c'è di tanto divertente? Ho un disturbo. Te lo dico io che cos'hai, pezzo di merda. Oh, 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 oh. Ti le calci, eh? Ehi, piatto fermo, piatto fermo. Statue, schizzato. Aiuto! Allontanarsi dalle porte in chiusura. Oh, 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 oh Grazie a tutti. Grazie a tutti.